Buongiorno, sono Léon Cremieux e faccio parte del nuovo Partito Anticapitalista in Francia. Siamo interessati dall'invito che abbiamo avuto di partecipare dai compagni della sinistra anticapitalista perché certamente la situazione politica italiana è una delle più importanti in Europa. L'Italia è uno dei paesi che subisce frontalmente gli attacchi capitalisti e allo stesso tempo siamo interessati per mantenere il legame che avevamo in prima con sinistra critica, quindi di continuare nelle questioni uscite e in particolare con sinistra anticapitalista. Pensiamo che è molto importante essere qui perché abbiamo dei problemi comuni in Europa, problemi comuni sono evidentemente come rispondere agli attacchi sociali che subiamo ma anche come fare in modo che attraverso questi attacchi si possa costruire in Europa una rete di organizzazioni anticapitaliste che permettono di rafforzare anche la risposta in Francia. Perché sfortunatamente oggi in Europa la situazione è dominata o dall'attendismo o da solizioni di estrema destra o dall'alternanza tra la socialdemocrazia e le forze conservatrici che tutte e due fanno la politica al capitalista. Per noi è molto importante di avere un legame e quindi siamo molto interessati a essere qui. Grazie a tutti!